Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tra persone fermate in maniera casuale nelle vie di casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il ministro dell'istruzione Stefania Giannini in occasione del G7 in Giappone ha sganciato la bomba, scuole aperte anche d'estate, per evitare che i ragazzi finiscano a passare le giornate per strada. Un'idea che fa parte del progetto Scuola al Centro e che coinvolgerebbe i ragazzi più disagiati di Milano, Roma, Napoli e Palermo. L'obiettivo è far diventare la scuola un luogo di ritrovo per non perdere di vista chi è in difficoltà attuando progetti e laboratori artistici o sportivi. Cosa ne pensa? Le sembra una buona idea? Insomma, se forse solo la mese aggiornata o magari le due ore ancora ancora, ma che passino 5-6 ore di seguito, che sia tipo un divertimento come la piscina, quello sì, un due ore, ma che sia proprio tutto il giorno esagerato. Come mai? Quali possono essere secondo lei le alternative per risolvere questo tipo di problema? Guardi, problemi ci sono dappertutto, poi forse perché i genitori lavorano, quindi stanno meno con i ragazzi. Quando si facevano le 4 ore, allora cosa facevano tutto il pomeriggio? Cioè, una volta non erano tutto 8 ore, cose che sono troppo stare 8 ore a scuola. Praticamente a casa poi i compiti non li puoi mettere sotto dopo 8 ore di scuola, sono stanchi. Io preferisco la mezza aggiornata e poi comunque ci sono i nonni, c'è la piscina, ci sono attività per i ragazzi. No. Come mai? Consiglierei alla ministra, se vuole proprio coinvolgere le scuole, di fare in modo che le scuole d'estate radunino i propri alunni e le portino nelle nostre bellissime colline. Sa quanti bed and breast abbiamo? Sa quante case vacanze abbiamo? Quanti cavalli? Quante passeggiate? Quanto star bene insieme? E quanto imparare in maniera alternativa, insieme alla classe se si vuole, con l'insegnante se si vuole, ma portatele all'aria aperta, fateli vivere un po', fateli giocare con intelligenza. Oltre che valorizzare il territorio, ma io ho visto a Milano bambini che non hanno mai visto una mucca, un coniglio. Dai, allora, d'estate, che siano cose simpatiche, giocose, perché bimbi rimangono, e bimbi sono, con intelligenza, magari laddove si sanno di alcune lacune, sai, mentre, non so, aiuti a fare un laboratorio di, ad esempio, verdure, un orto, ad esempio, si può ripassare le tabelline, no? Quanti pomodori mettiamo? Secondo, insomma, la fantasia si spreca, no? Però in campagna, da noi, cosa ne dite? Agli insegnanti del nostro buon Arda, eh? Ottima, una buona idea, perché anche quando si finisce la scuola, insomma, se i ragazzi possono socializzare, fare attività sportive, attività culturali, cercare sempre di fare qualcosa di positivo, non è una cosa sbagliata. Anche perché poi, quando si finisce la scuola, tanti si perdono un po', no? Nelle vacanze. È giusto anche, magari, fare un certo periodo di vacanze, però sempre e mai tralasciare lo studio, le attività culturali, le compagnie sane, che ti insegnano a star bene e a fare cose positive. Continua a pensare che si tratta di una buona idea, anche se le dico che l'investimento per questo progetto sarebbe pari a 10 milioni di euro, oppure crede che andrebbero investiti diversamente? Sicuramente, magari, ci sono delle priorità rispetto a questo tipo di investimento, però tante volte si spendono male i soldi, che questa mi sembra una cosa abbastanza utile.